Il Nobel per la Fisica 2018 è andato a tre scienziati per le loro scoperte nel campo dei laser. Lo statunitense Arthur Askin, il francese Gérard Mourou e la canadese Donna Strickland ha annunciato l'Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma, spiegando che con i loro strumenti di precisione avanzati hanno aperto la strada a nuove aree di ricerca inesplorate e a molte applicazioni mediche e industriali. I tre si divideranno in 9 milioni di corone svedesi del prestigioso premio. Ad Askin, del New Jersey, va a metà del premio per lo sviluppo delle pinzette ottiche, tecnologia che consente di maneggiare organismi minuscoli come batteri o virus grazie a raggi di luce, con un effetto che il Comitato dei Nobel ha illustrato con un video di un phon che fa levitare una pallina da ping-pong. Mourou e Strickland, invece, hanno vinto un quarto del premio ciascuno per il loro metodo per la generazione di impulsi ottici ultra brevi ad alta intensità, ha spiegato il Comitato. Strickland, fisica dei laser all'Università di Waterloo, in Ontario, è la terza donna a vincere il Nobel della fisica. L'ultima fu Maria Goeppermeyer nel 1963 per il suo lavoro sulla struttura del nucleo a Shell. La prima, Marie Curie, insieme al marito Pierre, nel 1903. Raggiunta al telefono, Strickland ha commentato il premio. Dobbiamo celebrare le donne fisico perché ci siamo e spero che sia il momento in cui possiamo progredire più velocemente. Sono onorata di essere una di queste donne.